Musica Allora, so giro non vuole una mano, qua c'è un cruciverba che tanto non mi serve Allora, abbiamo poche opzioni in realtà O ci alleniamo o puliamo qualche vestito Guarda, visto che questa cosa del pulire i vestiti non mi servirà più tanto nel prossimo futuro Io ti dico, mettiamoci e puliamo qualche cazzata, proprio così Poi al massimo li rivendo sti vestiti, tanto sai per quello che mi servono Detto sinceramente, a prescindere tanto li venderò Lo sto facendo veramente solo per quell'obiettivo La lavatrice è piena, vuoi usarla? Vai Crink, 400 yen Che poi, qualcuno verrà a pulire le sti lavatrici di tanto in tanto, immagino, no? Questa cosa trema parecchio Sento il profumo del sapone del bagno che è qui accanto Che ci sono i bagni, quelli lì per lavarsi accanto Oh, sembra che abbia finito A me piace un sacco come Morgana Non la versione metaverso, scusate c'era un piumino in faccia La versione metaverso, ma la versione gatto è bellissima È molto più pulito adesso di quanto mi aspettassi E biancheria vecchia, e biancheria fortunata Tutta roba che venderemo Finalmente, torniamocene a casa Credo che l'avessi fatto cinque volte E con questo siamo a sette Ergo me ne serve altre tre volte Abbiamo di concreto altri due giorni per non fare niente Avanti, oggi dobbiamo dare impegno con la medaglia No, forse non abbiamo il tempo Ehi, riesci a sentirmi? Oggi non hai impegni, vero? Vieni a darmi una mano invece di passare tutta la giornata sotto le coperte Ma dai, direi che glielo dobbiamo Ci toccherà aspettare Dai, scendi e vai ad aiutarlo Va bene, andiamo ad aiutare il suo giro patatino E questa giornata andò così Eh, scusa se ti ho quasi costretto a farlo E ora, dalle stelle alle stalle La storia di un ex campione olimpico caduto in disgrazia Di recente, il coach di una scuola superiore Ha confessato di aver abusato più volte degli studenti A causa dei suoi passati successi olimpici La notizia ha suscitato molto scalpore Cosa ha spinto questo criminale incallito a confessare davanti a tutta la scuola? La polizia spera che i prossimi interrogatori possano far luce sulla questione Hm? Ma non è mica... I miei amici tornavano sempre dagli allenamenti coperti di lividi È stato spaventoso Ma sono contento che questa storia degli abusi sia finita Mi toccava di continuo Secondo me, non tutte le storie che raccontano siano davvero tipo questa qua Chi è? Non si vede in faccia, quindi non possiamo saperlo Magari sta inventando, sono andati lì Scusi, ci puoi raccontare qualcosa di Camushita? Eh, mi toccava Ma non è vero Stai zitta che sono in televisione Sono felice di non dover più sottostare alle sue moleste sessuali Circolavano delle voci, certo Ma in pochi ci credevano Cioè, io sono davvero allibito da che fossero vere Ma ora quantomeno posso andare a scuola senza paura Lo sapevo È la tua scuola, vero? Eh, non mi importa molto Così pare Le cose potrebbero farsi turbolente Ma tu cerca di stare E di tenerlo nella testa bassa D'accordo? Ma soprattutto Continua a far lavorare quelle mani O altre cose da farti fare Pure Madonna Che cattiveria E siamo a sera E la medaglia Ciao Il capo ti ha fatto sgobbare Piripipiripip Ma avete visto? Era sui notiziari La scuola dovrà per forza agire in qualche modo adesso Visto anch'io Non hanno fatto il nome di Shio, vero? Non mi pare Scommetto che non vogliono che si sappia Per fortuna Allora è finita Non ci resta che ingozzarci E lasciarci alle spalle questa storia di Camushita Non vedo l'ora di festeggiare un po' Non vi deluderò Domani dobbiamo andare a vendere la medaglia d'oro Eh E se anche il capo chiedesse il tuo aiuto Tu digli di no, ok? Vabbè Se proprio devo Poverino su giro Oh Ti ho detto di no, eh Domani penseremo agli affari Che ave... Come abbiamo detto a Dan Devi vendere quella medaglia Ti alleni un po'? Facciamolo Assolutamente Vai Ok Ok, al lavoro Mettiamo alla prova il tuo spirito combattivo Vuoi prendere qualcosa? Come vedete adesso abbiamo anche l'iperproteico Ma... No Non lo... Non lo prenderò Ne abbiamo tre E ti dico Ci ho ripensato Cosa vuoi fare? Prende il frullato proteico Non sprechiamo l'iperproteico Per gli allenamenti in casa Ne ho 98 Vado Vediamo Tecnicamente questo dovrebbe essere il quinto Dovrebbero aumentare ogni... Ogni cinque forse Cambiare tipo di allenamento E migliorare la quantità di punti che prendiamo Vediamo Morgana che ci sprona Noi che tra poco tiriamo giù tutto Wow, davvero un ottimo ritmo Continua così Non mollare Spingiti oltre i tuoi limiti Miau Miau E di nuovo Yanko Pause Pare che ti abbia acquistato un po' di forza Quanto? 6 Abbiamo aumentato i nostri punti vita Pare che anche il frullato abbia dato i suoi frutti Uno solo E vai È comunque qualcosa Ehm... Non so di quanto siamo aumentati in realtà Boh Non lo so Però abbiamo La scorsa volta contro Kamushida avevamo 221 Se non dico male Beh adesso siamo quasi a 230 Siamo anche saliti di livello Vedi di lavare i piatti Quando torno A altri lavoretti Ora non posso Scusami Non fare l'insolente con me Oh, ma guarda chi è arrivato Benvenuto Ho interrotto qualcosa? Niente affatto La causa dell'incidente è che ha coinvolto un treno impazzito In metropolitana è ancora sconosciuta La polizia sta accelerando le indagini Temendo che sia un legame con l'aumento dei casi di Raptus Oh, è quella la cosa di cui tutti parlano Gente che conduceva una vita normale Diventa di colpo pazzo e squilibrata Senza contare che i casi sono in rapida successione Saranno davvero coincidenze Al di là di questo Cosa le posso servire? Vorrei la miscela della casa per favore Va bene Tu sei un aiutante part time Mi sorprende che questo posto possa permettersene uno Ehm, è proprio così Sei uno studente delle superiori Che scuola frequenti? La Shujimi, la cosa ne importa La Shujin Academy Meglio essere buoni comunque Oh? Ci va anche qualcuno che conosco La sorella Ho sentito che le cose sono un po' difficili al momento Un insegnante di nome Kamoshida Ha confessato i suoi crimini Come se fosse un uomo del tutto diverso Ed è successo così da un giorno all'altro Lo stando mentale di una persona Può davvero cambiare così in fretta? A quanto pare È pronta la mia ordinazione? Arriva subito Beh, su giro io esco Ciao Me ne vado oggi Vado a contrabbandare Oggi dobbiamo fare un po' di soldi con quella medaglia Conosci qualche negozio che la comprerà, vero? Vabbè, certo Però sai com'è? Quegli 8.900.000 Penso che per mangiare bastino, no? Un kebab con quelli ce li prendiamo Questo qua è un negozio che vende biglietti della lotteria Ogni tot, ogni settimana Dicono il vincitore E tutte le volte che ho comprato il biglietto ho vinto Ma solo una ho vinto una bella somma Talmente tanto da potermi comprare degli oggetti Tra cui qualche arma nuova Tutte le altre volte ho sempre vinto meno del biglietto Quindi, se avete qualche spicciolo, fatelo Che magari vi va anche di culo Ehi, guarda Queste persone si fanno un selfie Anch'io Vengo anch'io nella foto Posso? Rieccoci qua La stanza blu è scomparsa E questi? Che ci fanno qui? Il posto è questo Pare di sì Mettiamoci al lavoro Aspetta Non abbiamo ancora un mandato di perquisizione Sì paziente Sono sicuro che l'avremo presto E nessuno avrebbe mai in mente di scappare per un vicolo così stretto Beh, non penso ce ne sarà bisogno Ehi la, EY Eh, di nuovo tu Che vuoi? Vorrei venderti questa Una medaglia d'oro Come fai ad averla? Noi non compriamo roba falsa o rubata, ragazzino Aspetta un secondo Fammi vedere un po' Non ti chiederò dove l'hai presa Che ne dici i 30.000 Yen? Beh, è un prezzo onesto Grazie Vado per 30.000 Chissà se gli dicevo di no Secondo me mi diceva Allora attaccati al cazzo Grazie Li aggiungo e proprio spiccioli così È quasi ora Tieni, prendi Un ringraziamento per la medaglia Ma faresti meglio non aprirla Portala con te la prossima volta che vieni qui È un po' strano Va bene Lo farò Sei un tipo sveglio Bene Meglio non fare mai domandi Sono arrivati Mune Isha Iwai Oggi vorremmo parlarti di alcune questioni Ragazzo Vai Ok Salve Sai Sai perché siamo qui Siete a caccia di indizi? Mi dica signor detective Bada come ti comporti Allora Volete perquisirmi? Forza Fate pure Cosa hai detto? Un cittadino modello deve collaborare con la polizia Giusto? Ehi Quella pistola era credibile? Così sembrava? Potreste sbrigarvi? Devo portare avanti un'attività Bastardo Ehi tu Sì? Cosa c'hai nella busta? Fammi vedere Il ragazzo è un cliente abituale Potete guardare i video se volete conferme Vedrete tutto ciò che è successo qui oggi Non voglio essere qui quando gli investigatori vedranno il video di me con quella medaglia d'oro Dovrei andarmene Non ti lascerò andare così Mostraci il contenuto della busta Non sono affari vostri In realtà dovrei andare Non mi va In realtà dovrei andare io Questa storia inizia a puzzare Ehi Stai parlando con un ragazzo Ricordi? Inoltre non è per lui che siamo venuti Giusto Signor detective La prossima volta non molestate i clienti Potrebbe andare meglio Buon rientro a casa ragazzo Cosa c'hai i soldi in busta così 30.000 ieni Spiccioli Che ci facevano lì quei detective Ma soprattutto Non sei curioso di scoprire il contenuto della busta? Magari solo un po' Ma ha detto di non guardare Sono una brava persona io Una sbiracciatina non farà male a nessuno Gattaccio curioso Forza apriamola E che palle Morgana Una pistola vera Aspetta Credo sia un modellino È incredibile Mille volte meglio di quella di Ryuji Quel posto ha qualcosa di strano Ehi Phoenix Ho avuto un'idea Più tardi dobbiamo assolutamente Comprargli quella pistola È davvero perfetta Una cosa tanto realistica Funzionerebbe meraviglia nel metaverso Comunque ha detto di riportarla Quando saremmo tornati Giusto? Quando lo farai Prova a metterti d'accordo con lui Va bene In pratica mi sta dicendo Prova a comprare quella pistola Alla fine tanto ce la regala Se non ricordo male Comunque si è fatta sera E domani andiamo a festeggiare Piripipiripip Anna mi sta chiamando Ciao sono io Ho visto le notizie Sai riguarda Kamushida Il fatto è su tutti i notiziari Gli sta bene Fa un po' paura Come ti senti? Non lo so Non mi aspettavo una reazione così forte Forse sono solo sorpresa Però non credo che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato Infatti non è così Chissà se siamo riusciti ad aiutare quelle persone a farsi sentire È possibile, sono sicuro di sì Siamo stati bravi È una cosa fantastica, eh Non credevo che ce l'avremmo fatta davvero E invece... Eppure, guardaci adesso Dobbiamo assolutamente festeggiare Vediamoci di fronte alla stazione di Shibuya domani a mezzogiorno Non fare tardi Oh, sei riuscito a dare via quella medaglia Non ti sei scordato, vero? È tutto a posto, mi sono ricordato Poi ti racconto È tutto a posto Facciamo quelli tranquilli Bene E comunque, vedessi il posto che ho scelto Piacerà a tutti, ne sono certa Beh, ci vediamo domani Vabbè, grazie Ah, un ristorante scelto da Lady Anne Finalmente un pasto decente Gattaccio di merda Ehi, cosa ne pensi? Cosa pensi che mangeremo? Forse sushi? Spero barbecue? Spero cinese Spero barbecue Oh, vorrei una bella bistecca di Wagyu Non lo so Speriamo sia di prima scelta Chissà com'è la bistecca di Wagyu A ogni modo Mi sto già facendo i baffi Quanto cringe però Morgana Domani finalmente si festeggia Non sto più nella pelle Potrei ancora allenarmi Oppure potrei preparare del caffè Beh, sarebbe un'idea Io farei il caffè Uno così aumentiamo un pochino i punti di soggiro patatino E due Ci facciamo un po' di scorta Vuoi preparare un po' di caffè? Certo, vai Sembra che la cosa stia iniziando ad appassionarti Ehi, non lo fai per impressionarmi Vero? Beh, fa lo stesso Io esco a comprare le sigarette Oggi è un po' incazzoso, eh? Forse perché non l'abbiamo aiutato Però una bella tazza di caffè Gliela metti lì Secondo me adesso si calma Mmm, adoro il profumo di un buon caffè Che palle ste parti che ripetono sempre la stessa cosa Alla fine, tanto adesso mi dice Perfetto, sembra molto buono Riprendiamo il caffè Ci servirà Grazie Aumentiamo i nostri punti E arriva soggiro Che finalmente lui ci dice qualcosa di diverso Ci stai provando ancora, eh? E come sta andando? Vediamo Provo a dare un sorso Vai, provalo Mmm, assaggiamo Mmm, questo gusto Deve essere il Colombia Narigno Credo si dichiarà Narigno L'alta quota, il clima piovoso, il suolo delle montagne colombiane Sono la ricetta ideale per un caffè di alta qualità Il caffè Narigno Ha un corpo denso e cremoso Che avvolge il palato con aromi fruttati Sentori di nocciola Mmm, buono Il profilo gustativo è blando Esercitati di più se vuoi sfruttare le potenzialità della tostatura A ogni modo, vedo che l'hai preparato seguendo le mie istruzioni Ti stai dando da fare? Eh già, hai visto, sono bravo Vedi passare un sacco di clienti diversi Quando hai un locale di questo tipo Anche se qualcuno sembra un poco di buono Avrà la stessa tazza di caffè di tutti gli altri Oh, bravo Questo è il mio lavoro E sono orgoglioso di quello che faccio Bravo Anche tu sei come un cliente Un cliente che richiede un gran bello sforzo Hai del potenziale Continuo ad esercitarti Mi assumi quando sarò più grande, vero? Almeno c'ho già un lavoro Sarebbe figo lavorare in un caffè del genere Secondo me Sarà meglio andare a dormire Va bene E domani si festeggia Scusate Bellissimo che noi diamo da mangiare A Morgana col cucchiaino Che bontà Non mi stupisce che Lady Anne abbia scelto questo posto È naturale che sia buono È un hotel molto famoso del resto Ah già, ho sentito che la polizia verrà a interrogare qualcuno a scuola Chi? Che seccatura I nostri nomi salteranno fuori di sicuro Si sono diffuso un sacco di voci su di noi Che fame Che fame Ma le abbiamo fatti gasare Si sentono cose del tipo I ladri fantasma gli hanno davvero rubato il cuore La maggior parte della gente non ci crede Ma qualcuno sembra esserci grato Beh, per fortuna Guardate un po' qui Ma che tra l'altro Stavo guardando Cos'hanno sul tavolo Hanno Un bel po' di torte Pezzi di torta che sta mangiando Anna Una torta intera di mele Cioè Hanno proprio preso una torta intera di mele E un'intera porchetta Porca troia Ma lo sai quanto cazzo Si mangia con una porchetta intera? E tralasciamo anche i pancake Però vabbè Quello è È un plus Secondo me È una piccola citazione i pancake Il Phantom Aficionado Website Il Fav Ben fatto ladri fantasma Ora posso andare avanti Grazie per averci dato speranza Forte eh Io volevo soltanto risolvere i miei problemi Ma leggere questi post mi dà una sensazione strana Già Ehi Cosa facciamo adesso? Quanto tempo ci resta? Gnamete Eh? Oh merda Hai ragionissima Abbiamo solo un'ora per mangiare Mancano solo 50 minuti Non finirò mai tutti i piatti di carne di questo passo Devo riuscire a mangiare tutti i dolci che ci sono sul menu Mamma mia che fame Controllate la nostra roba Prendiamo anche qualcosa per voi Non preoccupatevi Questa è una scelta sbagliata Che schifezza che c'è lì Oh sì Mi si scioglie in bocca Sul serio? Solo carne? Vediamo Da dove comincio? E lei si abbuffa di torte Che gioia Oh Occhio alle calorie Chiudi il becco Hai idea di quanto costi una di queste? Non mi ricapiterà mai più l'occasione Siamo ricchi sfondati Vi posso portare qui quando cazzo volete Per 30.000 yen Santo cielo Le torte del Wilton Hotel Ne avevo sentito parlare Ma non pensavo fossero così incredibili E dov'è la nostra parte? Non avevo idea di cosa voleste Perciò vi ho portato dei fagioli Mamma mia Fagioli? C'erano anche un sacco di robe bizzarre Perciò vi abbiamo preso un po' di tutto Madonna mia che stronze Banane fritte Uova centenarie E delle sottospecie di fagioli Altri fagioli? Abbiamo messo così tanta roba nel piatto Che si è mischiato tutto Ma dovrebbe essere buono lo stesso È semplicemente grottesco Andiamo Fionix Questi due non hanno idea di cosa significa cenare come si deve Facciamogli vedere Ci penso io Mi serve una mano Cenare come si deve Ci penso io Mi sento più tranquillo Voi guardate le nostre cose nel frattempo Abbiate pazienza e aspettateci È come un'esplosione di sapori di carne Qui c'è della crema al formaggio Non mi stanno nemmeno ascoltando Dio mio Mi è salita una famiglia Una voglia di buffet incredibile Santo cielo È come mi aspettavo dal buffet di un albergo di classe Gli ingredienti e la varietà del menù sono incredibili Non per niente costa 8000 yen 8000 per 3 8, 16, 24, 1000 yen Orca troia Che costasse tanto Qui c'è di tutto Ma diamo precedenza al pesce Riempiamoci il piatto di pesci di ogni tipo A che tavolo pensi che sia? Quello sembra verdura Queste carne Credo che sia questo Non lo so Piatto a base di pesce Eccolo qua Oh guarda Ecco il pesce Lo preferisco crudo Ma ottimo anche la griglia Hai sentito mia cara? Le notizie su quel camushida sono davvero terribili Ah sì Quell'insegnante della Shujin Academy Del comportamento indecente Una vera vergogna Aspetta E ancora non hanno risolto Quei terribili episodi di raptus Non è così? Non dovrebbero farsi furviare Da simili scandali da 4 soldi Forse perché il paese è tranquillo Però mi dispiace molto Per i poveri studenti della Shujin Ho qualcuna che ci pensa almeno Oh sembra che il caso di camushida Sia sulla bocca di tutti Oh? Accidenti ti hanno notato Prendi un po' di cibo E fai finta di niente Più tardi lo mangeremo Prendendo roba a caso Che ci fa un ragazzino del genere qui? Spero che non sia in compagnia Non vorrei dover mangiare vicino a dei teppisti Su andiamo Senti stronza Se sono qui è perché c'ho i soldi Che c'è di male se dei ragazzini Voglio mangiare a un buffet Chissà cosa penseranno le altre persone Dalla notizia prendiamoci altro cibo e ascoltiamo Forse gli altri tavoli possiamo ascoltare altre persone di nascosto? Beh penso di sì Io... Cosa abbiamo qui? Quello che penso sia o astice o aragosta Vorrei credere che sia astice Qui c'è un po' di gente che parla Da vicino sembra ancora più grande e delizioso Questo gigantesco appetitoso Ah mi sono distratto Le notizie viaggiano veloci E' già tutto su internet Sai Quella storia su come alcuni sedicenti eroi riformisti Abbiano rovinato Kamushida A me non sembra una storia seria Alcuni dettagli sono abbastanza inverosimili Non preoccuparti Dobbiamo solo fare come ci dicono Sono... Sono tutte voci messi in giro da alcuni studenti Se il pubblico ha bocca Che ci importa se è falso Quindi non ci credono Ma inventano storie So che fa sembrare reali i ladri fantasma E lo fanno proprio davanti ai veri i ladri fantasma Eh? Ehi svelto prendi del cibo E assicurati che abbia una montagna di panna montata Pure Vicino all'astice così Cosa c'è che non va? Ah niente È solo uno strano ragazzino che mi guardava Vogliamo andare? È quasi l'ora del meeting Vediamo cosa abbiamo messo Oh scusa mi ho mandato avanti Che maleducato L'hai sentito? Ha detto che sei strano Chissà cosa pensano le altre persone Va bene andiamo a vedere Prendiamo un bel po' di carne Oh carne! Non sono come Ryuji Ma non c'è posto più degno di questo nome Mi sono distratto Alla fine la questione è semplice È solo un ex atleta che ha sopravvalutato se stesso Avrebbe dovuto accettare la sua posizione E vivere tranquillamente da insegnante Vero? Non si può prendere sul serio un caso simile È una storia piuttosto ridicola Sì dovremmo approfondirla Ma è anche un lavoro che possiamo lasciare alle mezze tacche Approfondire? Stanno indagando su Kamo Shida L'idea non sembra entusiasmarli Prendi del cibo Scegli una parte che non troppo grassa Arriverà presto Andiamo anche noi Sarà meglio non farlo aspettare Di che discuterà con i pezzi grossi? Beh sono sicuro che è più importante del pranzo Anche se erano ben vestiti A me sembrava comunque sospetti Beh tutti sembrano sospetti Chissà cosa pensano altre persone Andiamo a scoprirlo Qua c'è i piatti a base di riso Il riso è fantastico È la base di ogni buon piatto Scusa mi sono lasciato trasportare Quindi lo share del notiziario è stato così alto? E per quella notizia dell'insegnante che ha molestato gli studenti Vero? Kamoshida? Dipende tutto da come viene presentata Bisogna attirare il pubblico più idiota Lo share sale quando mostri loro le notizie sensazionali e volgari Ma facili da comprendere Come può essere così insensibile? Una studentessa si è quasi uccisa per colpa di Kamoshida A proposito Pensi che questi improvvisi pentimenti siano veri? Beh eh... Oh? Prendi del cibo Oh, non dimenticarti quelli Sono croccanti Così, a caso Quindi avrebbe confessato i suoi crimini Solo perché si è improvvisamente pentito? E chi lo sa Mi dispiace Adesso devo andare Ti richiamerò dopo il meeting Un pentimento improvviso, eh Beh, non posso biasimarlo se la vede in quel modo Non credo che ci sia rimasto qualcuno da ascoltare Certo che è terribile La maggior parte degli adulti non sembra brava gente A parte il suo giro Allora, in base a quello che abbiamo sentito Pare che alla maggior parte degli adulti Non interessino granché le notizie su Kamoshida Beh, adesso che abbiamo un po' di cibo nel piatto Torniamo dagli altri Che tra l'altro non ho visto che cosa abbiamo di concreto Abbiamo Credo delle crepe Poi un po' di riso Pezzi di carne Ah no, non sono crepe È l'astice slash aragosta Poi un pezzo di torta Credo, non lo so Cos'è a caso Oh, ne hai preso una montagna Allora Che effetto ti fa vedere tutto questo cibo così chic? Sono così felice Voglio solo mangiare Oh, non ho fame Voglio solo mangiare Ho fame Lo pensavo anch'io Ma prova questo Con ingredienti migliori Si creano dei sapori totalmente diversi Che poi cosa ha lì Ryuji? Ah, un raviolo di carne Una fetta di formaggio intera La porchetta di prima Credo un cosciotto Quelli tipo da cartone animato grosso così Delle salsicce Un mega sandwich Quella roba di fagioli assurda che Che ci ha preso prima Anna ha ancora le torte Ha ancora l'altra torta in mano Ha il pancake Però si è mangiata tutta la torta di mele Questa donna è incredibile Ma guardati Come se all'improvviso Avessi un palato raffinato Non starei mangiando un po' troppo, Mona? Non si sa mai se Torneremo mai in un posto In questo posto Beh, in realtà volendo sì Certo Ma voi due avete portato dal tavolo Un quintale di cibo Sarebbe un peccato da buttarlo Avete parlato voi che avete preso Il monte Fuji fatto di fagioli Cazzo Perché non gli dai una mano, Ryuji? Potremmo aiutarli entrambi Oh, io Sono troppo piena Non ce la posso fare Certo Ti stai impizzando di torte Ah, fa niente Pensiamoci noi E che cazzo Per quanto mangiamo La quantità di cibo sul tavolo Sembra la stessa Beh, perché sono i modelli Ce n'è ancora Non mollare Coltrino a darci dentro Il panino Oh, ce l'hanno fatta alla fine Ce l'abbiamo fatta La mia cintura sembra dieci volte più stretta Sì È una vittoria per tutti noi È stata una passeggiata È stata la toast Ti sembra un gioco questo? Non esattamente Ben fatto, ragazzi Che ne dite di un ultimo piatto Per pulirvi il piatto Il palato, scusate Vi consiglio la crostata Il pompelmo Ha sia una dolcezza seducente Che un'acidità pungente Basta Non voglio più sapere nulla Di roba acida Oh, cavoli Devo correre al bagno Che dopo aver mangiato così tanto Vomitare sarebbe veramente un crimine Veramente Anch'io, vi prego Portatemi con delicatezza Oh, è arrivata gente fastidiosa Oddio Guarda quel tavolo Non fissare È evidente che non sono abituati a gustare certe prelibatezze Non oso immaginare che razzi di genitori abbiano Debbano avere Tua madre fa i pompini all'inferno Cosa? Non abbiamo tempo adesso Forza, andiamo Bene, vi accompagno Certo che per andare al bagno devi prendere anche l'ascensore Sto scoppiando Sono andato nel panico quando ho visto il cartello chiuso per pulizia Ah no, ok Vabbè, sì invece abbiamo preso l'ascensore per andare a un bagno Perché quindi non siamo allo stesso piano Fuori dai bagni Facevi il gradasso dicendo che avresti mangiato fino a vomitare E l'hai fatto davvero Ma sei scemo? Ehi, lo stesso vale per te Il gattino che vomita così Tipo pistola d'acqua Ma che piano era il ristorante? Siamo saliti per venire qui Quindi che sarà un piano inferiore, no? Clink Oh, è arrivato qualcuno di importante Ehi, spostatevi Coglioncelli Eh? Ma che? Ancora nessun aggiornamento sul caso Mmm, non ti sembra familiare a te? Non ancora Mi scusi, ma perché è così interessato? Non è una cosa di cui dovrebbe preoccuparsi Non mi interessa la tua opinione, buffone incompetente È già tanto che non l'ha licenziato Quando ti dico di scattare, tu lo fai Ehi, c'è la fila da rispettare Cosa vuoi? Siamo arrivati prima a noi Chiedi scusa a Ryuji Siamo arrivati prima a noi Mmm Qual è la scelta giusta? Siamo al nostro posto Abbiamo fretta Oh, mi scusi Quindi potete passare davanti a tutti perché avete fretta La clientela è peggiorata molto dell'ultima volta che sono stato qui È diventato un asilo Ma che? Signore, non abbiamo tempo da sprecare Lo so Eh, la madonna che stronzo Lasciateli perdere Quella voce Mmm, è qualcosa di familiare Però non mi ricordo Che cazzo di problemi aveva quel prepotente Non dovremmo tornare di sotto Sì, ma Non ci sono le scale Cioè, avreste fatto prima Quel cazzone mi fa girare le palle Nemmeno nascondeva il fatto di guardare tutti dall'alto in basso Non vale la pena di prendersela Non li sopporto proprio Gli adulti merdosi come quello La voce di quell'uomo Tra l'altro anche noi abbiamo la mano nella stessa posizione Sembrava quasi la stessa di quella volta Che ti prende? Non sto... Sto bene Solo un giramento di testa Non preoccuparti Tutto a posto Così mi fai solo preoccupare il doppio Lo sai Scommetto che perché non mangia quasi mai bene Anch'io ho un menù fisso di scatolette per gatti Cosa ti aspetti? Sei un gatto per tutti Poi se non te lamenti Vuol dire che ti piace Quelle capelli mi danno il volto a stomaco Merda C'è un video tra l'altro su youtube Con tutte le imprecazioni da inizio a fine gioco di Ryuji Dovrebbero essere tipo 68 forse Perché ci avete messo tanto? E tu perché sei incazzata? Scusate Scusate Ho avuto una discussione con una signora poco fa Mi è venuta addosso Ma siccome le si è rovesciato il piatto Ha dato la colpa a me Che stronza Grazie 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 comunque Giusto Chiunque abbia un desiderio profondo è distorto Quindi rubando il tesoro Sto pensando Ci siamo sbattuti parecchio Per risvegliare il cuore di Kamoshida Ma nessuno crede Alla del fantasma Inoltre le persone che erano costrette a subire Ci ringraziano Ringraziano proprio noi Che ne pensi Ann? È sorprendente È pieno di vittime Che ne pensi Ann? Ma perché lo chiedi A lui Concordo Se ignorassimo le persone in difficoltà Tornerei a essere la stessa persona di prima Beh Questo è vero Siete sotto la mia tutela Niente è al di fuori della nostra portata Come ladri fantasma Dovremmo essere in grado di aiutare gli altri no? Penso di sì Non avevo mai pensato a un simile possibilità Ma è vero Che con questo potere Potremmo riuscire ad aiutare gli altri Ma Questo significa che dovremmo combattere di nuovo le ombre Giusto? Certo È inevitabile Tanto non sarà difficile Sono certo che ce la caveremo Giusto? A me sta bene Voglio aiutare gli altri Se ve la sentite Voglio aiutare gli altri E anche se siete ancora dei principanti Da oggi siamo tutti agli effetti un'organizzazione Principianti Ci si dice benissimo Va bene È deciso Bella sta musica Lascieremo a bocca aperta Quegli adulti di merda E ci faremo conoscere al mondo intero Ti va di essere il nostro leader? Certo Perché io Sembra difficile Va bene Lo faccio io Nessuna obiezione I diamanti In realtà In inglese so che dice Pink diamond Però Beh No Mi sembra il nome di una squadra di baseball I boulevard diamond Va bene Faccio io una proposta Credite di Blanquillo Blanquillo in padella Che? Blan Che? L'ho mangiato poco fa Per celebrare il momento no? Col cavolo Idiota Decidi tu per noi Vediamo Cosa posso pensare Il nome della squadra sarà visibile Bla 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 I fantasmi Come si cancella con cerchio? Ci chiameremo Vistecche No Qualcosa di più Sfarzoso e familiare Ecco fatto Più sfarzoso di questo Non riesco a pensare ad altro Però stavolta vorrei fare la stella Questa qua vuota No La stella piena Più bella Vai Questo sarà il nostro nome Killer Gecko Star Questo è il nome giusto? Sì Ho finito Non è affatto male Bel nome per una matricola Killer Gecko Star Va bene questo? Se vi piace Beh Ora che abbiamo un nome Chi sarà il nostro prossimo obiettivo? Ci sono un sacco di adulti Corrotti in circolazione Perché non continuiamo a prendere di mire i pesci grossi? Tipo un grosso dirigente Tipo quello di prima Sì qualcosa del genere Se diamo la caccia a qualche pezzo grosso Finirà sui notiziari no? Non pensate che così Più persone inizierebbero a credere in noi? Non è un'idea malvagia Detta da te Ryuji Già Se riuscissimo a farci una reputazione Potremmo dare coraggio a molte più persone Anche se non mi convince molto L'idea di scegliere un obiettivo così Dal nulla Allora Restringiamo il campo a qualcuno che mette d'accordo tutti Quindi ci serve un pezzo grosso Scelto all'unanimità Mi piace questo aspetto dell'unanimità È come stringere una specie di patto Bene allora È qui ufficialmente costituita l'organizzazione del ladri fantasma Tanto Morgana non lo sente nessuno Oh no Il tempo a disposizione per il buffet è scaduto Immagino che dovremmo rimandare il resto della discussione a domani Va bene Io col mio caffè in mano Bello tranquillo Bello quello delle blank Ah che cazzo La droga cosa non fa Un altro mondo in cui prendono vita le cognizioni distorte Risvegliare i cuori rubando il tesoro E per di più Tutto questo ti è stato detto da un gatto parlante È tutto vero Creda quello che vuole È tutto vero È incredibile lo so Francamente mi sembra una follia È difficile anche solo pensare che valga la pena ascoltarti Perché tanto Eppure non tutte sono assurdità Dal momento che collimano con la confessione di Kamushida Lo stesso vale per le testimonianze degli agenti che ti hanno arrestato Ma va bene così A ogni modo hai fatto riferimento a qualcosa di più importante Questi altri due complici Oltre al gatto parlante che compare nella tua storia Da quello che mi hai detto Sono studenti della tua scuola Dico bene? Non diciamo niente Non vendiamo i nostri amici D'accordo Diamolo per assurdato Continuiamo L'interrogatorio non è finito Comunque se sta inventando tutto Le incongruenze lo dimostreranno Il destinatario della successiva lettera di sfida È stato questo individuo Un maestro di arte giapponese Iekir Yurzai Madarame Madarame Ecco semplifichiamo È ancora più incomprensibile rispetto a Kamushida Il perché abbiate preso di mira quest'uomo Dove l'avete conosciuto? E come avete scoperto i suoi crimini? Non essendo sue vittime Comincia da raccontarmi cosa avete pianificato Va bene Ci provo Sono sotto effetto di Il riassunto della storia Fino a questo momento È stato aggiornato E si fece sera Abbiamo speso tutti i nostri soldi per il buffet Ma abbiamo fondato ufficialmente il ladro di fantasma Quindi ne valza la pena Beh 24.000 comunque 6.000 ti rimangono eh I ladri fantasma eh Mi piace come suona Spero potremmo aiutare veramente Quel sito Il Phantom Perché il resto non riesco a dirlo Mi incuriosisce Chissà chi l'ha fatto Non ne ho idea Soprattutto avete visto il sondaggio? Non so cosa pensare Sì c'era questo indice di gradimento Ma era solo al 6% E beh Un po' bassino Meglio di quanto pensassi Se la metti così Poteva andare peggio Ma non vorresti che salisse ancora? Secondo me salirà a razzo Se buttiamo giù un bersaglio grosso Guardandola in questo modo È parecchio esaltante Sì Hai ragione Bene Cominciamo a lavorare sodo D'ora in poi Perfetto Qualcuno che mi scrive? Oh no Ah già Ve la mando Ah già Vi mando la foto celebrativa di oggi Per celebrare la nascita Del ladro di fantasma E l'assalto di gruppo A quel buffet d'alta classe Oh che bella foto Io col caffè in mano Ma abbiamo Noi Come abbiamo ancora dei reni? Beviamo solo caffè Il nostro fegato dovrebbe essere distrutto dall'acidità Praticamente Morgana che guarda i pancake Intanto Guarda che ormai puoi anche smetterla con tutte queste celebrazioni Ehi Ma quella l'hai fatta mentre mangiavo? Perché non me l'hai detto? Te l'ho detto come? Solo che tu non finivi di mangiare Comunque sia Questo è il nostro inizio come ladri fantasma Prenderemo d'assalto il mondo intero Gli adulti più merdosi dovranno guardarsi le spalle Ryuji è il più esaltato di tutti Di questa situazione E noi salviamo Ti direi di portarci avanti E iniziare ad allenarci Volendo però Ma si dai Facciamolo Alleniamoci Ti alleni un po? Facciamolo E' una bella scelta comunque Ok al lavoro Perfetto Vuoi prendere qualcosa? Si Il frullato Ne abbiamo 97 Hai voglia? Glugate 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 Cominciamo l'allenamento Va bene Guarda Distruggerò quella trame prima o poi Davvero un ottimo ritmo Perfetto Quando cambia frase vuol dire che sei salito di livello Ottimo lavoro Pare che abbia acquistato forza 6 punti vita Più il frullato proteico Un altro punto vita Oh Ne abbiamo 97 Per carità Sono tanti Possiamo sfruttarli al meglio Beh si sta facendo tardi Perché non fai una bella dormita E anche una doccia Che sennò puzzi Oh buongiorno eh E vai Mi son risvegliato qui Ah, che bello Prima di tutto, vorrei iniziare a congratularmi con te Pensare che il nostro padrone avrebbe speso parole di elogio? Dovresti fare tesoro di questo momento, prigioniero Hai conosciuto degli alleati che sposano i tuoi ideali E hai scoperto il tuo posto nel mondo È giunto il momento La tua riabilitazione sta per iniziare Ah, non capisco Sta zitto e ascolta, prigioniero Tu hai un potenziale speciale Tuttavia, occorre affinarlo per far sì che diventi un potere proficuo È debole adesso Ma affinarlo ti garantirà la forza per opporti all'imminente rovina È questa la riabilitazione che ti è imposta Imminente rovina? Di che tipo? Esistono diversi metodi per ottenere il potere necessario a fronteggiare la rovina Combatte le ombre e guadagnare esperienza è uno di questi Il processo di fusione che ti ho insegnato in precedenza è un altro Tutto questo è possibile grazie alla guida del nostro padrone Padrone, prigioniero Può sembrare presuntuoso da parte nostra Ma anche noi abbiamo qualche saggio consiglio per te Quando sei nella realtà Migliori rapporti con quanti hanno stipulato un contratto con te Passare il tempo con queste persone ti aiuterà a rafforzare i rapporti con loro Sei del tempo da perdere, meglio che tu faccia visita ai tuoi contraenti, prigioniero Questo è un'altra fonte di potere per scongiurare la rovina di cui parla il nostro padrone Grazie ai contratti stipulati nel tuo cuore Cresce sempre di più il potere della resistenza Si direbbe che la tua riabilitazione sta procedendo bene È davvero una lieta occasione Ti concederò un'abilità degna dei tuoi progressi recenti Considerala un dono Posso la tua dedizione verso la riabilitazione diventare sempre più profonda Mi aspetto molto da te E il mio legame con Igor crebbe a dismisura No, non è vero, solo di un altro punto Riserva extra, le mie persone sono aumentate a 8 Yes Perfetto Avere più persone è sempre un bene Oh, grazie È giunta l'ora Ah no, era l'altra È giunta l'ora Fa ritorno ai tuoi fugaci momenti di riposo E non dimenticarti di parlare con i tuoi contraenti, prigioniero Va bene Ci penserò Ovvero aumenta il legame con i tuoi amici Quindi ora abbiamo a disposizione Ryuji, tra poco Han, tra poco un altro che non vi posso dire Il tizio del negozio di armi Che per adesso ci ha praticamente detto Torna appena c'hai tempo Ucciderei per una colazione decente Se solo potessi permettermela Che ne dici del Big Bang Burger? Quello di Central Street Ha lanciato una sfida Si chiama Big Bang Challenge o qualcosa del genere Si è di sera Puoi mangiare lì solo per 500 yen Ah ecco, era la sera Io ci andavo anche di pomeriggio se non sbaglio alcune volte Forse, non ne sono sicuro Però tocca mangiare uno di quegli hamburger giganti, vero? Come si fa a mangiare un padino così grande? Con abbastanza coraggio e abbastanza perizia Certo che per 500 yen è un vero affare Che poi anche metti che non lo mangi Il panino è grosso quanto la mia faccia 500 yen sono il niente Guarda, ti faccio il conto adesso 500 yen sono 4 euro Proprio arrotondato Sono 3,98 euro Un hamburger gigante? Interessante Fare un tentativo potrebbe aumentare il tuo coraggio Eh già Peccato che io sia un cordileone Miau Che tra l'altro Penso che lo farò Solo per avere il premio Niente più niente meno Come comunicatovi la scorsa settimana La lezione di ginnastica è saltata Vi darò un consiglio Non andate in giro a parlare dell'incidente Questo è quanto La polizia sta ancora indagando su Prof. Kamoshida Perciò nemmeno io posso dire nulla Come insegnante però Mi vergogno di non essermi accorta Che uno studente stesse soffrendo così Oh Kawakami Non per difenderlo ma Come collega Mi è sempre sembrato Una persona normale Onestamente Fatico ancora a crederci Ma immagino che ogni persona Abbia dei lati nascosti I profi se la passano male Oh mi ha appena Veduto in mente una cosa Di psicologia Dicono che gli uomini abbiano Molteplici personalità nascoste Nel loro subconscio Molteplici personalità? Oh Per essere chiari Non parlo di disturbi Della personalità multipla Queste diverse personalità Possono differire da voi Per sesso O età Insomma Se pensate al fatto che I mostri e divinità Della mitologia Derivano dalla figura umana Una di quelle personalità Potrebbe tranquillamente Sembrarvi un mostro Aha Sembrate più attenti del solito Finalmente trovate interessante Qualcosa che dico a lezione Beh Vi sto riportando solo Quello che ho sentito Oh che patata che sei Mi sento come se avessi finalmente Compreso tutto quello Che ho imparato molto tempo fa Acquistato conoscenza Bello Conoscenza gratuita Senza un'interrogazione E vai Oggi abbiamo imparato Qualcosa di nuovo Sappiamo che La mitologia e le divinità Sono tutte riferite All'essere umano Non è granché Ma abbiamo sempre Più post sul Phantom Scythe Facciamo così Voglio che il mio amico Si scusi per non avermi ridato Ciò che gli avevo prestato Veditela da solo Ehi Quelle ragazze Sei quella voce Sui ladri fantasma Che avrebbero rubato Il cuore a Kamoshida Mi chiedo se siano vere Deve essere tutta una messa in scena Sul serio Credi che esistano? Beh guarda che è successo Quello che è successo a Kamoshida Probabilmente non poteva più nascondere la cosa Dopodiché quella ragazza Ha tentato il suicidio Anche la mia gola Sta tentando il suicidio Sì potresti aver ragione Non credo sia possibile che esistano veramente Ma soprattutto è uno schifo che la nostra scuola finisca sulla bocca di tutti per questioni simili Speriamo che non si ripercuota sulle nostre ammissioni all'università Vabbè giustamente E' una reazione ragionevole per ora Ma presto si ricrederanno Se riuscissimo a occuparci di due o tre tizi famosi La gente dovrà accettare la nostra esistenza A proposito di pezzi grossi Ancora nessuna pista vero? In più c'è anche quella voce sulle minacce rivolte da voi a Kamoshida Pare che per il momento non possiate fare altro che comportarvi da normali studenti modello Tenetevi pronti però Nel caso ci saltassero fuori delle novità va bene? Iuterò gli occhi aperti a raccogliere informazioni da qualche pezzo grosso E io cercherò di scovare qualcosa di losco sul web Bravi Abbiamo formato i ladri fantasma E Ryuji che ne parla a voce alta come al solito Ma non siamo nemmeno capaci di trovare un obiettivo Su, su Immagino che non sempre le cose vadano come ci si aspetta Hmm, Ryuji Sempre a pensare male Chiedo scusa Voleva vedermi preside? Non lo ripeterò mai quel nome Hai visto in che stato era Kamoshida, vero? È come se le sue personalità fossero completamente cambiata C'è senz'altro qualcosa che non quadra Non credo di riuscire a seguirla Da quello che ho sentito pare che alcuni studenti stessero ficcando il naso nei suoi affari Se gli avessero fatto qualcosa Chi potrebbero essere? Sta dicendo che questi studenti potrebbero aver causato la trasformazione del prof Kamoshida È quello che vorrei scoprire Anche se dovesse servire a introforarsi nel sottobosco studentesco Vorrei che ti indagassi su questa faccenda per conto mio È vero che girano molte voci su prof Kamoshida ma Si riferisce a tutti quei discorsi su Ladri Fantasma È innegabile che il prof Kamoshida sia cambiato in qualche modo E io vorrei comprenderne la causa Questo mi permetterà anche di gestire i media e la polizia nel migliore dei modi Io continuerò a parlare con il prof Kamoshida in prima persona Ma a meno che tu non scopri i responsabili Queste voci in caute non si placcheranno mai Non credi anche tu? Sei sempre stata la prima della classe La tua condotta è lodevole e i tuoi insegnanti ti adorano Potrei scriverti una lettera di raccomandazione per qualsiasi università Makoto Mishima La ringrazio La tua famiglia ha senz'altro a che fare con le tue grandi capacità Tua sorella è ancora giovane Eppure ricopre una posizione autorevole nell'ufficio del procuratore, no? Se dovesse accadere qualcosa di deludente Potrebbe essere tua sorella a risentirne Che pezzi di merda tutti quanti Capisci? Sì Sei saggia Non mi meraviglia che tu sia la presidentessa del nostro consiglio studentesco Apprezzerei se ti occupassi della cosa il quanto poss- Il quanto prima Ti chiedo di cominciare subito Va bene Sì Allora se vuole scusarmi Mamma mia Quanto sei pezzo di merda paciocco Sono io signore Lei mi scusa per se la disturbo mentre è così impegnato Sì Riguarda la questione di cui abbiamo discusso poc'anzi Ho la situazione sotto controllo L'indagine avrà inizio immediatamente Certamente Sì Otterrò dei risultati Dovrei riuscire ad aggiornarla presto Va bene Devo lasciarla Grazie per il suo tempo Ma è proprio in faccia Gli eri attaccato Che palle Io volevo solo fare il preside paciocco Oh no Il telefono con Ushimaru La poliziera è davvero qui Li ho visti dall'ingresso Anch'io Stavano parlando con gli insegnanti Il risveglio del cuore è una figata eh Spero che non scoprano che siamo stati noi Non lo faranno Ne sono abbastanza sicuro Non hanno prove Non dobbiamo preoccuparci Sono preoccupato Forse dovremo consegnarci Non dobbiamo preoccuparci Trasù di veramente sicurezza Voglio dire Erano girate voci Secondo cui avete minacciato Kamoshida No? Il Kamoshida di questo mondo Non ha però idea Di cosa sia successo veramente Abbiamo fatto quel che dovevamo fare Non ti preoccupare di un nome Immagino che tu abbia ragione Vivere una doppia vita Sarà fantastico Ok Phoenix Contiamo su di te Ehi Star Tu Fai attenzione Presta ascolto Quando qualcuno ti parla Questo mi ammazza Ale Schivato Stronzo Wow Quella si che è stata una schivata epica Non riesco a credere che abbia schivato un lancio di Ushimaru E' una specie di ninja Beh Fa come ti pare Riprendiamo la lezione Sto stronzo consuma un gesso alla volta ogni volta che me lo lancia Hai aumentato il tuo fascino E vai Che tra l'altro è divertente quando ti colpisce qua e rimbalza anche il coso Il gessetto Pam 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 Parabam Pam 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 Parapana pam pam Ehi Hai visto il phantom Sight Facciamo così Ne ho sentito parlare Sono stato io a crearlo Eh? Mmm Siete voi i ladri fantasma, vero? Non starmi addosso Scusami Però Se le cose stanno come penso io Manterrò il segreto Kamoshida mi ha usato e io vi Vi ho fatto cose orribili Non è granché come modo per farmi perdonare Ma se c'è qualcosa che posso fare per aiutarvi Fatemelo sapere È grandioso ma Mi fa piacere Non si tratta solo di Kamoshida Ma ci sono molti altri adulti malvagi in circolazione Ma sono certo che i ladri fantasma faranno qualcosa Non possono fermarsi dopo un solo obiettivo Ecco perché ho creato il forum Dove le persone possono postare i loro problemi Probabilmente ci sono un sacco di persone che attendono Trepidanti la prossima mossa del ladri fantasma Perciò ho anche implementato un sondaggio anonimo sul sito Sentiamo Credete nel ladri fantasma oppure no? Voglio lavorare su questo forum e fare in modo che un giorno sia pieno di Pieno zeppo di post e di sostegno Vorrei davvero dare un contributo alle imprese del ladri fantasma Posso? Per favore Sembra divertente State a decidere Fa come ti pare Sì Percepisco chiaramente un grande aspettativa da Mishima Oh Di già Abbiamo già iniziato la nostra collaboration con Mishima A parte la reazione del grande pubblico verso il vostro gruppo C'erano altri a supportarvi Una persona che incitava con entusiasmo i ladri fantasma Forse vi conoscevate bene Chi era questa persona? Cos'è da dire a riguardo? Pam pam Paraparabam Io sono te Tu sei me Hai appena stretto una nuova alleanza Essa diverrà leali della ribellione Capace di spezzare le catene della tua prigionia Con la nascita di questa persona La luna Mi sono concessi i venti sacri che condurranno alla libertà E a un nuovo potere E soprattutto è stata automatica Quindi Tutto di guadagnato Supporto di Mishima permette di Permette le riserve di guadagnare punti esperienza Il che è fantastico Perché appunto con il regalo di addio di Mishima Abbiamo tutti i bonus Riferiti ai punti esperienza Quindi Guadagno praticamente Aumentato di punti esperienza Tutti quanti guadagnano il 100% di esperienza Anche nelle retrovie Perfetto Aumentare di livello sarà molto più semplice ora Pam pam Ci si vede Ciao Come lo guarda male Abbiamo sentito tutto Cavoli E' stato un po' imbarazzante Scegliere il modo giusto per farci vedere Quindi il forum è di Mishima Ha scoperto le nostre identità Anche se fosse Non credo ci sia da preoccuparsi Sembra disposto a stare al gioco Credo che dovremmo fare una bella chiacchierata A proposito Vi dirò Un forum dove è possibile postare i propri problemi potrebbe rivelarsi un davvero utile In ogni caso dobbiamo metterci a cercare un nuovo obiettivo E dobbiamo restare con gli occhi aperti finché non ne troviamo uno Una volta trovato dovremmo entrare in un nuovo palazzo Perciò serve preparare l'equipaggiamento e Aspetta Oh merda Ma che ti prende Non abbiamo un esame a breve A giudicare della tua reazione presumo che farai pena anche stavolta o sbaglio Non è che tu sia meglio di me Sei brava solo in inglese Meglio così che essere capri in qualsiasi materia Madonna mia Persino il tuo giapponese è alquanto discutibile Ryuji L'unica cosa di discutibile è come tu sia davvero un umano Ah piaciuta la risposta eh Discutiamone fuori a pugni Fatti sotto Volete piantarla voi due? Stai litigando con un gatto Coglione Non attiriamo l'attenzione finché non avremmo trovato il nostro prossimo obiettivo Non trascurare gli studi però Se prendi brutti voti non ti permetterò di darmi la colpa Va bene Tra l'altro a noi non ci serve Studiare Non ci serve aumentare il coraggio Non ci serve nulla Siamo perfetti Grazie a tutti